sicuramente agli studenti perché gli si dice sempre di studiare di avere un metodo di avere dei risultati ma spesso il metodo anzi non ce l'hanno e quindi vedo che studiano di solito io li osservo anche magari all'università oppure dove capita di incontrarli che sono molto affaticati specialmente quelli che ci mettono veramente dell'impegno vedo che fanno una gran fatica mettono tante ore e un grande sforzo invece possono fare esattamente gli stessi risultati ma anche molto migliori con molto meno impegno molto meno sforzo non che non serva ma con più facilità con più tranquillità e diventando in grado di essere padroni del tempo che hanno e delle energie che vogliono mettere non più con questo stress con quelle sensazioni del dover fare le maratone dell'ultima ora poi anche naturalmente i professionisti che devono aggiornarsi per qualsiasi motivo nella loro professione che hanno quindi da elaborare tante nuove informazioni velocemente e per esempio professionisti del settore legale ma anche di qualsiasi altro campo dove c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare ma anche le persone che vogliono crescere a livello personale quindi hanno tanti libri che vorrebbero leggere magari li comprano ma poi non li leggono mai perché sono veramente tanti quindi direi che è un po' per tutti i lettori e anche i lettori che leggono tra l'altro non dai libri cartacei ma dagli ebook o dai kindle o quant'altro o dall'internet anche perché è questo metodo applicabile anche da questi vari supporti quindi tutti i tipi di persone che ho nominato